Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi analizziamo Fiorentina-Juventus, ci sono tante cose da dire, questa credo che sia stata per prestazione forse la peggior uscita stagionale della Juventus e vi chiedo di arrivare in fretta a 2000 like perché stasera voglio portarvi il prima possibile anche le pagelle di questa partita, ora ci concentriamo su Allegri e invece poi nel video successivo ci concentriamo sui calciatori singoli. E come al solito vi invito a scaricare il numero 10 qui sotto in descrizione, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando nella creazione di altri contenuti, il post partita di Monza Juve lo troverete non sul canale YouTube ma sull'app di numero 10 insieme ad altri articoli e ad altri contenuti che creerò soltanto per loro e attenzione che potete vincere pure delle maglie della vostra squadra del cuore che inserirete in fase di registrazione, è gratis, vi conviene e ci sono anch'io. Ok, partiamo subito e andiamo a vedere quella che è stata l'analisi di Fiorentina Juventus. Tempo di gioco effettivo, andrò molto veloce perché i dati sono abbastanza coerenti con quelli soliti, medi, vi dico subito che in realtà ieri sera nel post partita di Milan Inter vi parlavo di un tempo di gioco effettivo che mi sembrava più alto, in realtà quello del derby è stato minore, il tempo di effettivo di Fiorentina Juve è stato del 54%, qua vi lascio i dati relativi appunto a quanto è disputato, si è giocato leggermente di più nel secondo tempo, poi vedremo anche chi ha giocato di più nel secondo tempo. Possesso palla Fiorentina Juve è stato un 60-40, quindi un dato nemmeno così clamorosamente alto per quanto riguarda la Fiorentina è comunque un dato discretamente alto. Il punto focale, ragazzi, è che la Juventus ha tenuto a palla per 20 minuti e 52 secondi. Il dato relativo alla posizione è invece, come ho scritto qua, raccapricciante. 17 minuti e 34 minuti su 20 minuti e 52 secondi nella nostra metà campo. L'84% del possesso palla la Juventus l'ha sviluppata nella propria metà campo. Soltanto 3 minuti e 18 secondi invece nella metà campo avversaria. La Juventus ha giocato il 16% della partita nella metà campo avversaria della Fiorentina. La Juventus ha giocato soltanto 3 minuti e 18 secondi nella metà campo della Fiorentina. Quando ieri vi dicevo che la cosa peggiore in assoluto è vedere una Juve che non vuole provare a vincere la partita, ecco qua. Il dato sottolinea questa cosa. Male, male, male. Questa cosa non penso che possa essere assolutamente accettabile. Ed è a Firenze contro la Fiorentina. Non eri a Parigi contro il PSG per citare una partita. E dato che a Firenze contro la Fiorentina queste sono state le premesse, ho seriamente paura di sapere che cosa faremo per cercare di fronteggiare il PSG. Giocheremo senza attaccanti? Non lo so. Vedremo. La Juve parte bene. Lo dimostra il possesso palla nei primi 15 minuti dove troviamo pure il gol. Invece il secondo tempo è un concerto viola dove suona solamente l'orchestra della Fiorentina. Ragazzi, si è deciso infatti nel secondo tempo di abbandonare il pressing in fase di non possesso. Abbiamo abbassato il baricentro nella nostra metà campo e poi vedremo il perché questa cosa non ha funzionato. Perché non è tanto il fatto di abbassare il baricentro. Vedremo poi successivamente. Comunque questi sono i possessi palla per quarti d'orario. Tiri, Fiorentina e Juve. 17 tiri per loro, 5 in porta, hanno creato 12 potenziali occasioni da gol. Che non sono occasioni da gol pulite, sono potenziali occasioni da gol. Per noi 4 tiri, 1 in porta e soltanto 2 potenziali occasioni da gol. Veramente male. 183 passaggi viola nella trequarta avversaria. Ragazzi, noi abbiamo passato il pallone nella trequarta avversaria soltanto 24 volte. Ci credo che poi abbiano giocato 3 minuti e 18 secondi di là. 24 passaggi sulla trequarti. Statistiche che descrivono perfettamente il match. Ha senso unico. Direzione Fiorentina. Dati interessanti per Fiorentina e Juve. I viola sono stati superiori in tutte le statistiche tranne 1. In realtà sono due. La Juventus è fettato più ferigioco e per forza di cose più parate. 327 palloni giocati in avanti dai padroni di casa. Noi abbiamo giocato in avanti soltanto 69 palloni. Stiamo parlando di meno di un pallone al minuto giocato in avanti. Allego la schermata completa. Queste sono tutte le statistiche che vengono fornite da Serie A. Quindi dati ufficiali della Serie A. Andatevele a leggere. Questi sono i dati più attendibili. Probabilmente che riuscirete a trovare in giro proprio perché li fornisce il nostro campionato. Non voglio starci sopra tanto perché le cose più interessanti le abbiamo già affrontate. Palloni toccati in Fiorentina e Juve. Dal massimo al minimo. Allora, se seguite questa rubrica saprete che di solito sono i centrali di difesa della Juventus a toccare più palloni. E ancora una volta seguiamo questo filone. Bremer 65 e Danilo 53. Perché è strana questa cosa? Perché di solito ne tocchiamo intorno ai 100 con i difensori centrali. Segno che abbiamo giocato ancora meno palloni rispetto al solito. Mi viene in mente la partita con la Samp dove due centrali difensivi toccavano 100 palloni. Perché c'era questo possesso palla sterile all'interno della linea difensiva. nella nostra metà campo. Qui non c'è nemmeno stato questo. La Juventus non ha nemmeno provato a fare un possesso palla sterile. La Juventus è stata sempre senza il controllo della sfera. E quando ce l'aveva non riusciva a ripartire e non riusciva a giocare i palloni in avanti. Perché ne sono stati giocati veramente pochi. Bremer 65 tocchi. Danilo 53. Quadrado 50. Sandro 44. Paredes 44. E attenzione che Paredes fino a primo tempo ne aveva toccati qualcosa come 37-38. Una roba di questo tipo. Quindi significa che al secondo tempo veramente non si è giocato. 42 Locatelli. 31 per Milik. 29 per McKennie. 25 per Desciglio. 23 per Costi. 18 per Di Maria. 18 palloni toccati da Di Maria. 18 palloni toccati da Di Maria. Non si può. Non si può. 13 Miretti. 12 Ken. 5 Bonucci. 2 Fagioli. Decisamente troppo poco ragazzi. Troppo poco per essere una squadra che vuole puntare a vincere lo Scudetto. Con queste statistiche non è che non siamo una squadra a Scudetto. Non siamo una squadra. Heat Map. Basterebbe l'immagine per commentare la partita. Guardatela. Questa immagine è emblematica ragazzi. Cioè guardate la Fiorentina nel secondo tempo. Il secondo tempo nostro è gravemente insufficiente. Qualcosina si è fatto nei nostri primi 15, forse anche 20 minuti. La Juventus che decide, lo metto in caps lock perché decide di abbassarsi ed effettuare una difesa posizionale per difendere, lo metto ancora in caps lock, difendere il pareggio. Non condivido, non posso condividere, non posso accettare che la Juve rinunci completamente alla ricerca della vittoria. Ribadisco sia un campo difficile, può essere il campo peggiore da andare a affrontare in Serie A, può essere. Secondo me insieme al San Paolo, a San Siro e all'Olimpico sono i tre campi più difficili in assoluto. Però questo, questo ragazzi non, questo non, come, cioè non le trovo nemmeno le parole. Cos'è questa roba qui? Che cos'è questa roba qui? Cioè guardate il secondo tempo, guardate il nostro secondo tempo, guardate il loro secondo tempo. Non ci siamo eh, non si possono offrire prestazioni di questo tipo. Qui non è un discorso di giocare bene o giocare male. che è un discorso che si è rinunciato a voler giocare. Sono due cose diverse, sono due cose gravi. È grave questa cosa qua. Modulo, sono sincero, non ho idea di cosa sia questa roba, adesso lo vedrete. C'è una difesa 4 evidente, un centrocampo in diagonale, senza copertura sulla sinistra, di Maria Kostic dentro il campo, senza ampiezza, Milik spostato tutto da una parte. Io l'ho definito 4-3-3 stortissimo, perché non so come altro chiamarlo. E in fase di possesso questa cosa non cambia, perché le immagini sono praticamente la stessa, non migliora la situazione nemmeno in fase di possesso palla. La UE crea una sorta di trenino spina dorsale centrale e non sfrutta praticamente mai le corsie esterne. La domanda sorge spontanea. Con questo, cosa si cercava di ottenere? Cos'è quel Forza 4 tra Danilo, Paredes, Locatelli e McKennie? Cioè mi sembra veramente di giocare a Forza 4, che hai messo le quattro pedine dello stesso colore in diagonale e hai fatto Forza 4. Che cosa mi rappresenta questa cosa? Qual era il vantaggio che si poteva trarre da questa cosa? Si voleva fare un 4-3-3 con Locatelli e Mezzala insieme a McKennie? Si voleva fare Locatelli e Paredes davanti alla difesa con McKennie trequartista? Non si è fatto niente di tutto ciò alla fine, ragazzi. Cos'è questa roba qui? Che cos'è? Come si descrive? Perché è stata pensata? Cioè ci sarà un motivo per cui sei sceso in campo e ci sei disposto in questo modo? Qual è il vantaggio che si voleva ottenere? Tutti compatti? Tutti lì? Tutti in mezzo? Creare densità? Annullare la Fiorentina semplicemente? Sei sceso in campo per pareggiare? Non me la spiego diversamente. Eppure per l'inizio che c'è stato la Juventus sembrava tutt'altro. Sembrava che la Juventus non volesse vincere questa partita. Allora perché ci siamo fermati? Perché abbiamo deciso di non giocarla più? Non ho parole. Baricentri e dati di Fiorentina e Juventus a confronto. La Juve, come ho detto, sceglie di abbassarsi nel secondo tempo. Questa volta la squadra non si allunga e non si allarga. Mantiene le stesse distanze sia tra primo che secondo tempo. Compattandosi dietro però. E quindi è normale che non ti allunghi, non ti allarghi. Anzi, forse ti stringe anche qualcosina. E il punto è che noi mettiamo il bus e rinunciamo a ripartire. Cioè, se metti il bus non puoi non ripartire. Devi fare delle ripartenze di alto livello. Se no, non puoi ottenere i risultati. Anche queste immagini. Queste immagini, ragazzi, si spiega da sola. Cioè, io guardo questa immagine e penso noi siamo la squadra che ci deve salvare di bassa classifica che va su un campo difficile e prova a strappare il punto e dopo aver strappato il punto è contenta. Cioè, guardate. Noi nel secondo tempo abbiamo addirittura abbassato un baricentro medio che era già basso e abbiamo completamente rinunciato a cercare la via del gol. Non c'era modo di segnare. E lo dimostra tutta questa analisi fino ad adesso. Ma soprattutto, dove abbiamo toccato la palla? 543 palloni giocati in totale che sono veramente pochi 333 in difesa 164 a centrocampo 46 palloni arrivati in attacco 10 tocchi di palla all'interno dell'area di rigore avversaria 4 volte la toccata Milik 2 volte la toccata Kostic 1 volta la toccata Quadrado Ragazzi, peggio decisamente peggio di Sampdoria Juve Davanti siamo stati invisibili e anche a centrocampo non abbiamo fatto chissà che cosa questi sono dati veramente di basso livello e questi sono i tocchi palla medi Ragazzi, abbiamo toccato 10 palloni in area di rigore 6 sul centro-destra 4 sul centro-sinistra La Corsa La Juventus ha corso qualcosina in più 103 km contro i 101 da Fiorentina ma non è quanto corri e come corri Abbiamo anche Corso più veloce 633 di velocità media ma anche qua stesso discorso Top Corridori McKennie circa 11 km Locatelli circa 11 km Milik 9 km quasi 10 il più veloce è stato Quadrado che con uno sprint ha toccato i 33 km orari però di questa cosa non c'è idea di importare niente Voto da Allegri 4 Allora qualcuno mi verrà a dire l'unico dato che conta è il risultato finale cioè 1-1 e quindi un punto a testa tra Juventus e Fiorentina e io concordo perché quello è l'unico dato oggettivo il campo ci dice questo il campo ci dice che Juventus e Fiorentina nonostante tutta la partita che è stata fatta e analizzata hanno raccolto un punto a testa verissimo rimane assolutamente però dentro la partita c'è una prestazione da analizzare ci sono delle scelte da valutare a me non è piaciuto Allegri né sotto il punto di vista della preparazione della partita né sotto il punto di vista dei cambi e l'ho già spiegato ieri di Maria Perdesciglio è un chiaro indice di rinuncio alla fase offensiva e qualcuno mi dirà perché me l'avete già detto eh ma alzato quadrado sì ma chi se ne frega e ho già spiegato perché secondo me il cambio di Di Maria non ha senso già sapevi di doverlo tirar giù delle due lo metti nel finale qualcuno mi ha detto eh ma se non sta bene ci sta a metterlo prima che poi lo cambi e allora delle due vi dico preserviamolo direttamente per la partita di Champions ma qui poi casca l'asino perché mi chiedo perché Vlaovic e Mirete sono stati in panchina turnover per prepararsi a martedì e Allegri dice in conferenza stampa post partita per essere realisti siamo realisti la partita importante per noi è quella in casa col Benfica non quella di Parigi quindi viene da dire siamo realisti io sono d'accordo con questa cosa perché l'ho detto pure nel post nella live reaction che è uscita sul canale questa mattina che sicuramente avrete visto e nel caso vi lascio qui sopra nelle schede è vero la Juventus è più scarsa del PSG indubbiamente ma non lo può dire l'allenatore della Juventus l'allenatore della Juventus non può permettersi di passare ai giocatori in primis questo messaggio perché se no un giocatore con che voglia entra in campo a Parigi e in seconda battuta a un tifoso ai tifosi a un tifoso che come me domani prenderà l'aereo andrà a Parigi spenderà 400 500 euro per tre giorni a Parigi per vedersi la partita e se io parto dall'inizio con la consapevolezza che nemmeno l'allenatore ci crede e il messaggio alla squadra che mi è passato è questo io poi spero che all'interno dello spogliatoio Allegri stia dicendo il contrario che vada a motivare i calciatori che vada a spronare i calciatori però l'ha detto con talmente tanta convinzione l'ha detto sia ai microfoni di Sky sia nel post partita generale che il timore che questa cosa ci creda davvero ce l'ho e il timore più grande è vedere l'anno scorso la trasferta che è stata fatta all'interno del girone di Champions League e quindi Chelsea 4 Juventus 0 dove Allegri va a schierare i 4 mediani tutti in fila Bentancurra Biocchi più ne ha più ne mette aveva messi tutti in fila così e che cosa era venuta fuori una partita in cui il Chelsea ci aveva dominato in lungo e in largo e ci aveva umiliato allora io sono d'accordo che si possa perdere io sono anche d'accordo nell'accettare umilmente la superiorità degli avversari e cercare di fare una partita quanto più vicina possibile al difensivo però lo ribadisco se noi non iniziamo a mettere nel motore nei meccanismi di questa squadra la ripartenza in maniera efficace tu non puoi solo difendere non è possibile se tu difendi e basta la partita non la vinci mai e ieri l'impressione è stata proprio questa una Juventus che la partita non la voleva vincere io firmerei per un pari al parco dei principi ma qui stiamo parlando della Champions è di livello superiore perché il PSG è di livello assolutamente superiore ma la partita la dovrei preparare passando il messaggio alla squadra che comunque il risultato si dovrà andare a fare poi si può perdere si può perdere pure 4 a 0 ma io voglio vedere una squadra che va là e comunque il risultato me lo prova a portare a casa e in questo caso il risultato può essere benissimo un pareggio ma non bisogna partire con l'idea del voglio pareggiare può arrivare durante la gara all'interno di una prestazione che deve renderti orgoglioso perché sennò entriamo in un vortice che va a trascinarci e quando l'altro giorno nella prima intervista pre partita col Sassuolo Allegri diceva che l'anno scorso è stata un'ottima stagione e io qua nell'analisi della conferenza avevo detto non sono d'accordo con questa cosa e spero che nemmeno ci creda io ragazzi non so più a che cosa credere vogliamo pensare che Allegri sia bugiardo nelle conferenze stampa io ho sempre pensato questo ho sempre pensato dice una cosa per un'altra però poi l'atteggiamento di vedere all'ultimo secondo chiedere a De Sciglio di aspettare sulla rimessa laterale e urlare ai giocatori è finita è finita della serie tradotto non cerchiamo di andare a vincere non cerchiamo di sbilanciarci ma ci sta perché se hai fatto un secondo tempo in cui non hai mai voluto attaccare figurati se vuoi attaccare gli ultimi 5 secondi rischiando poi di perdere la partita però allora ragazzi se questa è la volontà se questa è la mentalità che sta passando l'allenatore non venitemi a vendere il discorso che l'Aventus vuole già provare a rivincere lo scudetto perché l'anno scorso Allegri mi dava l'impressione di non fidarsi della squadra e ragionavo sul fatto che semplicemente la squadra non è la squadra che voleva gli è stato aggiunto semplicemente Locatelli gli è stato venduto Ronaldo non si veda con gli effettivi che ha a disposizione ci vorrà una squadra adatta per le sue caratteristiche e quindi fino a che non l'avrà non si fiderà ed ecco qua tradotto il perché l'anno scorso Allegri tante volte mi è sembrato non fidarsi della squadra non possiamo alla prima giornata post mercato concluso estivo con una marea di cessioni una marea di acquisti una squadra fatta su misura per l'allenatore seguendo le volontà dell'allenatore essere ancora al punto di partenza però di un anno fa quando si poteva ragionare che magari era la squadra a non essere adatta all'allenatore questa vuol dire che è una linea guida chiara da seguire e che l'anno scorso non ha portato insegnamento perché anche la gente che mi viene a dire sì però l'anno scorso tu eri contento che fossi tornato Allegri sì ragazzi ma non è mica un problema ve lo ridico non era l'allenatore che avrei scelto in quel momento e andate a vedere i video ve lo confermerò ma quando arriva Allegri io comunque sono contento quando l'anno scorso arriva Allegri ero contento ma non ho mica problemi a dirlo però la fiducia nelle persone la fiducia bisogna guadagnarsela ragazzi la fiducia non è illimitata la fiducia prima o poi finisce a meno che non dimostri di ricaricartela questa fiducia e per farlo ci devi provare in campo guardate davvero lascio anche stare lascio anche perdere le conferenze stampa per quanto non possa negarlo mi dà fastidio sono soldi miei che tiro fuori dal mio portafoglio qualcuno può tradirermi del tuo lavoro sì ma ragazzi 400-500 euro per tre giorni a Parigi non li recupero assolutamente li spendo perché voglio fare l'esperienza perché voglio vederla a Juventus in Champions perché amo questa squadra perché voglio dare il mio supporto a questa squadra ma sentirmi dire l'allenatore mi dice queste cose mi dà fastidio ma lascio anche da parte la conferenza stampa non è questo il punto focale il punto è un allenatore che ieri mi ha dato veramente la dimostrazione di essere ancora fermo esattamente alla stagione dell'anno scorso e allora mi viene davvero a pensare che venga reputata ottima la stagione dell'anno scorso allora significa che la Juventus sia diventata una squadra che deve ambire al quarto posto che è perché due anni che facciamo un quarto posto e allora dobbiamo ancora una volta arrivare al quarto posto pensandola così non torneremo mai più avanti e anzi forse rischeremo di scivolare indietro perché è due anni che se Petagna non fa gol all'ultimo secondo se Petagna segna gol all'ultimo secondo a Verona in Champions non ci andiamo a compirlo e l'anno scorso probabilmente se l'Atalanta non muore inspiegabilmente nel girone di ritorno non ci andiamo in Champions noi e allora dobbiamo ancora una volta pensare a quegli altri guardarci indietro invece che avanti perché a me piacerebbe guardare avanti in questa condizione e pensare sai siamo a due punti dalla vetta dal Milan dal Napoli abbiamo l'Inter qui vicino la Roma vediamo cosa succede l'Atalanta l'Alastra vediamo cosa succede devo preoccuparmi devo preoccuparmi seguendo questa linea di pensiero di quello che arriva dietro perché perché se la stagione dell'anno scorso è stata ottima se è disonestà intellettuale pensare che sia stato un fallimento uscire 3-0 col Villareal devo pensare che la dimensione nuova della Juventus sia questa di una squadra che deve accontentarsi della qualificazione Champions deve accontentarsi forse di passare il girone a questo punto perché io non sono tranquillo in questo girone con PSG e Benfica dato che il Benfica mi sa di squadra ostica e che ci farà dannare e non so nemmeno perché dobbiamo pensare a questo punto di poter sognare allora perché il tifoso deve partire alla volta di Parigi per seguire e supportare la squadra se la partita è davvero importante con la col Benfica perché il tifoso deve partire e supportare la squadra perché la squadra deve credere nella vittoria dello Scudetto quando gli viene chiesto palesemente di non prendere un altro gol a Firenze con la Fiorentina e va bene così perché è un ottimo risultato il pareggio a Firenze con la Fiorentina è un ottimo risultato se viene all'interno di una prestazione che ti poteva portare a qualcos'altro e lo dice uno che la partita con la Roma ragazzi ma l'avete vista l'analisi ero entusiasta poi ho detto ragazzi il risultato è arrivato no peccato ce lo meritavamo ce lo meritavamo la grande e ieri è un punto guadagnato non sono due punti persi sono due punti persi sulla carta perché la Juventus parola di Massimiliano Allegri per lo Scudetto ci deve essere deve provare a lottarci deve essere dentro alla lotta a Scudetto ma io con questi presupposti temo che che la lotta a Scudetto non sarà di competenza Juve e torno a dire quello che ho detto ieri e non faccio marcia indietro nemmeno di un millimetro Massimiliano Allegri si deve svegliare si deve dimostrare di essere un allenatore meritevole della panchina della Juventus perché l'Allegri out oggi sarebbe troppo facile sarebbe troppo facile io voglio vedere Allegri che mi dimostra di meritare questi soldi questo prestigio questa panchina ma lo torno a dire la fiducia non è illimitata ragazzi sarò molto onesto con voi mi sembra di respirare la stessa aria che si respirava dopo l'eliminazione con l'Ajax all'ultimo anno di Allegri ma qui non si è ancora giocata la Champions qui sono passate cinque giornate di campionato e ovviamente l'anno scorso e quello che è successo l'anno scorso e la conferma del progetto tecnico con la fiducia e la speranza che potesse cambiare qualcosa incide terribilmente su questa cosa per forza di cose l'anno scorso è stata una stagione terrificante altro che ottima mi sembra di respirare già quell'aria di quando si è arrivati poi l'esonero di Allegri mi sembra di respirare già l'aria di quando è stato esonerato Pirlo perché sto pensando le stesse identiche cose di quando è stato esonerato Pirlo di quando ho capito che non dovevo non volevo andare avanti di compirlo della serie ma siamo sicuri che sia ancora in grado di condurre la squadra dove le compete la mia fiducia è veramente messa a dura prova in questo momento nei confronti di Massimiliano Allegri ma non perché mi sono svegliato una mattina e ho detto da oggi Massimiliano Allegri mi è antipatico perché quando Massimiliano Allegri ha portato a casa dei risultati mi ha dato impressione di essere all'interno dei concetti dei meccanismi anche della filosofia Juve oggi questa concezione questa percezione non ce l'ho e quindi davvero io credo che il crocevia di Parigi sia molto delicato anche per la mia posizione inerente a Massimiliano Allegri proprio per quello che vi dicevo prima perché un conto è andare a fare una partita di un certo tipo consapevoli del fatto di essere una squadra sulla carta minore un conto è partire dicendo sai la devo giocare ma tanto questa non mi interessa poi me la sbroglio poi benfica in casa la Juventus non può mai ragionare nello snobbare una partita a maggior ragione se una partita di questo livello in una competizione importante e divertente come la Champions League in uno stadio fantastico si vanno a affrontare dei campioni incredibili e Massimiliano Allegri queste cose le sa e le deve sapere e non io non posso accettare l'onestà di Massimiliano Allegri nell'analisi di ieri nel dire che quella partita lì non è quella importante ma è quella con Benfica la Juventus va in Champions per vivere di queste partite i tifosi aspettano queste partite per godersi queste serate e allora ci vuole la risposta alla parte della squadra e in primis dell'allenatore fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti lasciate tanti mi piace ovviamente a questo video per farsi di avere le pagelle già il prima possibile nella serata nella prima serata nel primo pomeriggio di oggi la prima serata di oggi Grazie a tutti.